A volte non andiamo d'accordo sulle sue conclusioni, ma quello che è bello delle amicizie è quello di mettere di anteporre l'amicizia a tutto. Io credo che tutte le persone abbiano il diritto di dire il proprio pensiero specialmente quando il pensiero è così profondo come quello che esprime Mauro. Non lascio, credo che lui comincerà a parlare, quindi andrà avanti fin quando così gli manca avanziato, manca la corrente, visto che qualche morte ultimamente manca solente la corrente, magari è fatto tutto in preparazione al tuo intervento. Grazie ancora e a te Mauro. Bene. Grazie, grazie, grazie per esservi spostati anche da lontano per venire in un posto che non è così molto bello ma non è così comodo e quindi so che ci sono persone che arrivano da parecchio lontano, da Roma lontano, poi in Milano Lombardia, eccetera, poi magari da qualche altro posto che non so e vi ringrazio mi spiace anche per quelli che sono fuori e spero che riescano a sentire, prima mi sono messo alla finestra ho dato una benedizione perché mi sembrava almeno almeno mi sembrava giusto per quelli che sono fuori, no? Urbi e Torbi e quindi va bene ok diceva bene Renzo magari non si è sempre d'accordo su tutto anzi meno male no? perché se si fosse d'accordo su tutto avremmo già raggiunto la noia nel senso che saremo tutti d'accordo sapremmo tutto e veramente ci sarebbe il problema di far passare il tempo allora però al di là del sapere tutto c'è un discorso che vado facendo ultimamente che è un discorso sul metodo perché al di là dei contenuti sui quali spesso si può discutere all'infinito senza arrivare mai ad una conclusione condivisa e soprattutto quando si parla appunto ovviamente di testi antichi no? nel senso che per esempio per certe traduzioni il professor Garbini dell'Università della Sapienza di Roma scrive tranquillamente che neppure l'accordo di tutti gli studiosi del mondo su un significato è garanzia di certezza quindi figuriamoci un po' figuriamoci poi in lingue che volutamente erano scritte ad esempio soltanto con le consonanti come le lingue semidiche come la stessa lingua egizia e scrivere soltanto con le consonanti vuol dire ovviamente nascondere una parte del significato e lasciare ogni gruppo di consonanti aperto a vari possibili significati tenendo presente appunto che per esempio nella lingua egizia sono necessari i determinativi per capire a quale come dicono quelli che sanno a quale area semantica appartiene un certo vocabolo oppure per quanto riguarda l'ebraico ad un certo punto hanno sentito avvertito la necessità di mettere diciamo dei puntini e delle linee perché le vocali non esistono e con questo cercare di fissare un significato perché altrimenti ovviamente il significato continuava a rimanere libero per quanto riguarda poi per dire la lingua egizia sappiamo appunto di fatti quante siano più ancora che per l'ebraico le incertezze nella traduzione tra l'altro una curiosità che mi viene queste prime lingue che i popoli antichi in genere ma anche i centroamericani i sudamericani ci dicono sono state date da loro da loro che in genere poi vengono chiamati i figli delle stelle no? e non hanno certi suoni ma ne hanno soltanto altri o meglio nella rappresentazione grafica vengono rappresentati solo certi suoni e non altri allora la domanda che io mi faccio è se quegli altri suoni fossero suoni non ripetibili da voce umana che so chissà per esempio degli schiocchi o qualche altro verso detto da gole con conformazione diversa e non riproducibili è una domanda ma tanto sapete io le domande le faccio un sacco perché faccio finta però mi piace buttare lì ok? poi ci sono quelli che si arrabbiano pazienza perché sanno già tutto ma per esempio ultimamente ho letto uno studio del dottor Fabio Garotti che parla di una lingua e inizia volevo cominciare in un modo veramente non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio poi dopo ho delle diapositive e quindi quelle sono costretto a seguire ma mi viene in mente che ha letto questo studio del dottor Fabio Garotti che parla di una prima lingua lineare di una prima scrittura scusate di una prima scrittura lineare planetaria poi da questo lui deduce tutta una serie di elementi che riguardano le lingue europee occidentali che sono interessantissime quindi magari poi in futuro come dire saranno anche oggetto di ulteriore ricerca e approfondimento ma questa lingua planetaria questa scrittura planetaria è fatta di linee rette che hanno come base o una linea orizzontale o una linea verticale a fianco delle quali ce ne sono delle altre e anche qui dico inoltre delle mie stupilaggini tanto ma se io se io sentite allora se io sono uno che vive in alto e magari tendo a viaggiare in alto così come ci raccontano tutti i popoli antichi e ho sotto di me dei popoli che su cui governo e voglio che questi popoli prego scusaci noi qua non ti sentiamo allora proviamo ad abbassare il volume però possiamo mettere fuori la cassa ecco sì con la cassa fuori voi sentite di qui va bene ok così sentono anche i camosci i caprioli i caprioli scusate i caprioli i caprioli stavo dicendo se io sono uno che vive in alto che viaggia in alto e che governo su un certo numero di popoli no? o magari semplicemente su delle tribù e voglio comunicare con queste tribù o meglio voglio che queste tribù mi comunichino degli elementi essenziali tipo per esempio abbiamo fame tipo per esempio stiamo per essere sterminati tipo tipo per esempio ci sono dei nemici tipo per esempio ci sono delle malattie allora io dico se avete fame fate una linea verticale e una orizzontale e io dall'alto vedo se avete dei nemici fate due linee e io dall'altro vedo e poi le cancellate poi queste linee magari cominciano a diventare permanenti nel momento in cui quei segni che all'inizio erano 15 ai quali poi se ne sono aggiunti altri 5 quei segni cominciano ad assumere un valore concettuale o magari un valore fonetico e quindi cominciano a dire qualcosa che rimane in modo perenne e allora invece di essere disegnate sulla sabbia e poi cancellate vengono disegnate su dei supporti più definitivi non sarebbe il modo più semplice per comunicare? Io passo e vedo se la mia tribù ha che cosa ha che cosa mi vuole comunicare visto che si parla di questa possibile scrittura planetaria lineare planetaria vuol dire tutto il mondo cioè quindi tutto il mondo avrebbe inventato la stessa cosa o forse a tutto il mondo è stata data la stessa indicazione chissà certo è che da un certo punto in avanti ovviamente sono cominciate a nascere quelle che noi poi conosciamo come civiltà e le civiltà sono quelle che sono state governate appunto dalle caste dominanti che sono quelle che noi conosciamo adesso come o i re sacerdoti o i sacerdoti è che purtroppo quando noi nominiamo il termine sacerdote immediatamente non possiamo farne a meno perché siamo ovviamente stati educati in questa cultura immediatamente ci viene in mente il nostro sacerdote quello che avrebbe il compito di occuparsi di anime da portare a Dio in realtà i sacerdoti di allora tutto facevano meno che occuparsi di anime erano i governatori locali per conto delle divinità quindi erano dei governatori noi diremmo laici che si occupavano dei beni delle divinità divinità che erano individui in carne ed ossa chiaramente individui in carne ed ossa questa cosa qui rappresentava il potere e sappiamo benissimo che per mantenere il potere bisogna innanzitutto gestire e mantenere la conoscenza ma la conoscenza vera quella che è riservata a chi comanda perché gli altri sotto devono rimanere nell'ignoranza e guardate che questa cosa non è cambiata guardate che questa cosa non è cambiata nel modo più assoluto noi ci illudiamo di sapere noi ci illudiamo di sapere così guardate c'è qui in sala una persona che mi ha spiegato come funziona il web quando noi andiamo su google noi vediamo il 4% di ciò che e diciamo beh google ha tutto noi vediamo il 4% di ciò che gira sul web sotto c'è il deep web e sotto ancora c'è il dark web dove gira il 96% di ciò che gira in rete a noi viene data la superficie e noi siamo convinti di dire beh con questo madonna quante cose sappiamo sappiamo ciò che è stabilito che noi si sappia punto cioè il 4% è qui questa persona e mi ha detto anche se per caso una volta ti venissi in mente di andare nel dark web prendi un computer non metterci niente sopra niente vai solo con quello perché appena ci entri tutto quello che hai dentro è di proprietà di altri e da quel momento in avanti sei fottuto capite? voglio dire quindi noi viviamo in un mondo di superficie ma questa roba qui dell'inganno ripeto che vale tuttora vale tuttora e i governanti lo sanno molto bene e come lo sanno e come se lo sanno tant'è che ci tengono bene chiusi in recinti ben divisi ben separati fanno in modo di metterci gli uni contro gli altri eccetera in vari modi ovviamente in tantissimi modi ma questa roba qui non è soltanto un prodotto della modernità questa roba qui è iniziata millenni fa e gli antichi lo sapevano e lo scrivevano pure lo scrivevano pure ve lo leggo così siamo tranquilli Eusebio di Cesarea uno dei padri della chiesa riprendendo gli studi di Filone di Biblos diciamo Filone di Biblos circa duemila anni fa parla di San Cugnaton un sacerdote del 1200 avanti Cristo cioè 3200 anni fa ora questo San Cugnaton imbattutesi in certi libri segreti che erano stati fino ad allora nascosti nei penetrali del tempio di Amon si dedicò al loro studio per comprendere tutte quelle cose che non a tutti era dato conoscere perché? perché i sacerdoti che egli critica spramente fecero in modo hanno interpretato in maniera allegorica e fondandosi su spiegazioni e teorie e perciò snaturandoli i racconti riguardanti gli dèi ma i più recenti scrittori che si sono occupati di storia sacra hanno ripudiato i fatti quindi avvenuti in principio e dopo aver inventato allegorie e miti che combinarono in modo tale da ricondurli per esempio a fenomeni cosmici istituirono dei misteri e li avvolsero in una oscurità così densa che non era possibile vedere facilmente i fatti realmente avvenuti cioè io più vado avanti ma veramente più vado avanti più mi accorgo che gli antichi ci hanno raccontato fatti veramente avvenuti ma sono fatti che non dovevano e non devono essere conosciuti sono fatti che devono essere nascosti sotto l'allegoria sotto il mito sotto la simbologia dentro la categoria del mistero perché se si conoscono quei fatti cadono tutti i sistemi di potere non c'è niente da fare bisogna rendersene conto se si conoscono quei fatti cadono tutti i sistemi di potere ed è per questo che fanno di tutto per evitare che certe cose vengano dette ma noi adesso abbiamo gli strumenti però per fortuna per cominciare a indagare e li abbiamo e come ma attenzione allora questo San Cugnato si dedicò al loro studio in seguito i sacerdoti che vissero dopo di lui vollero nascondere nuovamente la verità e ritornare al mito da allora ebbero origine i misteri che ancora non erano stati introdotti presso i greci quindi ce lo scrivono duemila anni fa che già stavano ingannando i nostri orecchi abituati fin dall'infanzia alle loro invenzioni e martellati ormai da tanti secoli da queste fantasie custodiscono quasi come un deposito la materia favolosa trasmessa da queste favole che essi hanno appreso così come ho già detto all'inizio rafforzate dal tempo queste invenzioni fantastiche sono diventate un patrimonio di cui assai difficilmente ci si può disfare tanto che la verità sembra una fantasticheria mentre i racconti contraffatti sembrano avere tutti i caratteri della verità cioè questa roba qui la scrivevano duemila anni fa se ne erano già accorti ma è chiaro che il potere è talmente forte che è riuscito a perpetrare questa cosa ma noi lo vediamo ancora ai nostri giorni basta lanciare come ho fatto io e adesso oggi ne parliamo divertendoci anche un po' un sassolino nello stagno di certe interpretazioni e tutti si scatenano tutti si scatenano perché uno commette un reato di lesa maestà se si permette di fare una domanda in relazione a certe cose che risultano essere assodate ma risultano essere assodate sulla base di questo tipo di atteggiamento di questo tipo di comportamento che parte da un metodo e il metodo è questo se questa cosa visto che questa cosa non è possibile dunque non è vera ma visto che questa cosa non è possibile è un'affermazione che viene fatta a priori e quindi non è un'affermazione scientifica è una sorta di dogma religioso visto che non è possibile dico che non è vera e invece facciamo finta che sia possibile come ho cominciato a fare dal 2010 con la Bibbia e vengono fuori un sacco di cose che non solo sono vere ma sono diciamo così sono logiche e sensate perché si spiegano da sé senza necessità senza necessità di inventare nulla basta leggere ciò che c'è scritto e invece se si parte da quell'assunto visto che non è possibile non è vera e allora è ovvio che non c'è neppure possibilità di dialogo assolutamente dalle loro testimonianze risulta che tra gli antichi i primi che diedero una sistemazione organica alle dottrine sugli dèi non si sono assolutamente richiamati alle interpretazioni figurate derivate dalla natura né hanno interpretato allegoricamente i miti sugli dèi ma al contrario attenendosi soltanto al senso letterale hanno rispettato rigorosamente la verità della storia capite? all'inizio si attenevano al significato letterale e hanno rispettato la storia poi hanno cominciato ad inventarsi le allegorie i simboli e i misteri e la storia non è più stata rispettata e a noi mi spiace dirlo ma per quanto riguarda l'antichità viene raccontata questa storia quella che non rispetta la verità quella che non rispetta rispetta la realtà vabbè fermiamoci questo è importante quindi questo è il discorso del metodo quindi facciamo finta che gli antichi fossero concreti e vediamo che cosa ci dicono vediamo che cosa ci raccontano perché altrimenti rimaniamo sempre nel mondo della favola dell'allegoria facciamo vedere per esempio questa cosa qui è quella pietra che ho buttato nello stagno vi dico che entro la fine dell'anno arriverà un pietrone in questo stagno un pietrone questa roba qui è un divertimento rispetto a ciò che arriverà questo è un divertimento nel vero senso della parola allora questa qui è la parete di luxo e la parete della purificazione dove ci sono tutta una serie di elementi tra cui questi elementi qui andiamo avanti che sono questi l'interpretazione tradizionale data più di cento anni fa dice che questa è un'anfora che rovescia acqua su di un corno ed è il simbolo della purificazione ok? questa è l'interpretazione che viene codificata benissimo per il momento teniamola come tale comunque indica la purificazione perché in questa parete si purifica cioè si indica la tecnica e che cosa si fa nella purificazione andiamo avanti questo è il dio Amon il dio della fertilità il dio itifallico sempre rappresentato con il membro lì davanti c'è il simbolo della purificazione bene quindi questa è un'anfora che rovescia l'acqua su di un corno va bene? io francamente ci vedo altro e come estraneo come estraneo pongo delle domande ok? degli egittologi mi hanno detto ah Biglino in primis deve rivolgersi agli egittologi benissimo io di fatti so che cosa dicono gli egittologi so che cosa dice Alan Gardner nel suo elenco ma non mi convince finito so cosa dice ma non mi convince perché vedo altre cose soprattutto nel momento in cui vedo che andiamo avanti vedete lì che c'è un raccoglitore bene quel raccoglitore lì è messo per fare che cosa? per raccogliere mi si dice no questo raccoglitore contiene dentro delle sostanze afrodisiache bene le sostanze afrodisiache servono per far venire appetito? servono per far venire sonno? perché cosa servono le sostanze afrodisiache? eh? se non per produrre ciò che si cerca lì poi all'inizio mi hanno anche detto ah Biglino dice che questo qui è lo sperma cosa che non mi sono mai sognato di dire anche perché guardate da dove esce ma mi hanno attribuito anche questo non solo non solo ma secondo voi si può raccogliere un getto spermatico con un contenitore al volo così cioè mi sentirei un deficiente solo a pensarlo ve lo dico francamente però me l'hanno attribuito ok? allora è chiaro che la raccolta viene qui no? è chiaro che la raccolta viene lì andiamo avanti questa parte qui a me ricorda tanto questa vero? a me da profano ricorda tanto questo andiamo avanti anche qui di nuovo ah scusate questa parte qui non è molto simile a quel colletto che c'è lassù di quello spermatozoo o vi ricorda di più la zigrinatura che è il simbolo e il geroglifico dell'acqua a me da profano ricorda quella là questo qui è il colletto mitocondriale cioè il motorino dello spermatozoo quello che lo fa andare velocissimo cercando di battere gli altri e quindi a me ricorda questo e quindi pongo delle domande a chi si occupa di queste cose qui perché chiaramente l'interpretazione tradizionale che possiamo immaginare che a fine ottocento inizi novecento chi faceva l'egittologo non si occupasse di genetica e quindi giustamente io posso immaginare che lui abbia pensato che questa è un'anfora che rovescia acqua su di un corno quando teniamo presente che per esempio nella lingua sumera la purificazione è data proprio come simbolo è data proprio dallo stesso simbolo che indica l'acqua cioè è data proprio dallo stesso simbolo che indica il liquido spermatico e siamo in culture coeve quindi ci siamo non c'è da inventare uno si pone delle domande lecite su ciò che vede andiamo avanti soprattutto quando poi quello che c'è scritto nei geroglifici qui sotto è fatto in modo da dare la lunga vita al faraone e renderlo come ra cioè io faccio la purificazione e con ciò che purifico e chi è tecnico di laboratorio sa che purificazione del liquido spermatico o comunque i liquidi organici significa estrarre il DNA cioè quindi estrarre l'elemento genetico e poi lo utilizzo per dare la lunga vita cioè lo introduco allora c'è scritto pure questo fatto in modo da dare la lunga vita e renderlo come il Dio questa cosa qui trova un parallelismo perfetto nella Bibbia ed è per questo che me ne occupo perché nella Bibbia nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che ad un certo punto gli Elohim cioè i cosiddetti dei biblici che corrispondono ai Neteru egiziani decidono di non dare più il loro liquido spermatico agli adamiti così la vita degli adamiti si accorcia così traduce il professor Kamal Salibi dell'Università Americana di Beirut profondo conoscitore di tutte le lingue antiche del Medio Oriente traduttore della Bibbia e lui lo scrive in assoluta tranquillità nel suo libro di Arabian Bible di cui ho fatto fotocopia dove lui scrive tranquillamente che l'Elohim dice io non arricchirò più l'essere umano con il mio liquido spermatico e la sua vita sarà di 120 anni cioè mentre prima gli adamiti vivevano fino a 900 anni gli Elohim cessano di dare il loro liquido spermatico e la durata della loro vita scende qui c'è scritto che con il liquido spermatico degli dèi si può allungare la vita dei faraoni ci dicono esattamente la stessa cosa da due prospettive diverse allora io dico è lecito porsi delle domande o dobbiamo accettare passivamente ciò che ci viene detto e che comunque non ha senso perché ciò che ci viene detto rimanda delle interpretazioni magico-misteriche tant'è che per esempio in un altro gerogrifico dove si parla della purificazione c'è scritto che la purificazione si fa con delle sostanze e molti egittologi traducono sull'Egitto del Sud invece altri egittologi traducono si fa con delle sostanze che provengono dall'Egitto del Sud quindi molto concreto cioè purificano purificano lo sperma del Dio per utilizzarlo quindi per utilizzare il patrimonio genetico per allungare la vita del Faraone quindi siamo veramente nella stessa strada se noi leggiamo i racconti dei Sumeri ma nelle traduzioni pubblicate dalla Utet vediamo come i Sumeri come allora per esempio prelevassero lo sperma del Dio Enchi cioè sapevano benissimo cosa farne sapevano benissimo cosa farne è che quelle pratiche erano riservate a loro e quindi dovevano essere nascoste e per nasconderle la cosa migliore è nasconderle sotto il velo dell'allegoria del mistero del simbolo della metafora in modo che chi le guarda non capisce e se le sente raccontare come vuole però facevano cose molto concrete esattamente come ci dice qui all'inizio conoscevano la verità poi l'hanno nascosta con l'allegoria col mistero perché la gente non sapesse e questo è fondamentale cioè noi adesso abbiamo gli strumenti per indagare abbiamo gli strumenti per capire e quindi secondo me noi li dobbiamo usare noi abbiamo il diritto dovere di porsi delle domande di fronte all'evidenza di certe immagini assolutamente lo dobbiamo fare perché altrimenti rimaniamo all'interno di quella sfera di interpretazioni andiamo avanti il discorso del metodo vale appunto per tante cose vale per la Bibbia vale per i disegni egizi io vi leggo che cosa mi ha scritto un archeologo proprio in relazione alla possibilità di studiare veramente certe cose dice un archeologo di quelli accademici ovviamente non dico il nome perché lo radiano in ambito accademico mi sarei aspettato di studiare la storia attraverso una molteplicità di punti di vista e con un sincero occhio critico volto ad individuare le centinaia di tasselli mancanti per comporre il mosaico e creare così una specie di panstoria cioè di storia che comprenda tutto anche perché tutti gli antichi nella sostanza ci hanno raccontato la stessa storia anche in ambito universitario invece si studia una storia creata e teorizzata da storici europeisti atti a mantenere questo loro predominio un tale accanimento per il sistema di studio eurocentrico aggiunge solo insulto al danno facendo emergere lacune e discrepanze a cui il mondo accademico scientifico non può e non vuole dare risposta cioè se certe cose non sono spiegabili le si lascia da parte oppure le si mette dentro il mito dentro il mistero dentro l'allegoria così lì si spiega tutto anche perché lì nessuno deve dimostrare nulla e ognuno racconta quello che vuole tanto va tutto anzi più uno è bravo nell'inventare come dire più viene usannato guarda quante belle cose dice quello lì peccato che siano cose piene di nulla piene di nulla per esempio una rappresentazione come questa che sono le lampade di Dendera così chiamate è una interpretazione che da sempre ci viene data cioè è un'immagine che da sempre ci viene interpretata in senso anche qui misterico allegorico simbolico il simbolo della vita eccetera 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 allora io dico quando noi ci troviamo di fronte a tutta una serie di elementi che guardandoli ci indicano certe cose quando sentiamo certe interpretazioni almeno io io dico non mi convincono e ho il diritto di non essere convinto ho il diritto di non essere convinto se non mi convince non mi convince se non mi convince faccio delle domande espongo i miei dubbi e io dico sempre di più che a differenza di quello che ha scritto quell'egittologa dice Biglino deve sentire gli egittologi io dico è proprio sentendo gli egittologi che non sono convinto delle risposte che mi danno io sono convinto sempre di più l'ho già detto con la Bibbia ho cominciato a farlo in questi anni basta vedere i libri che ho scritto in abbinamento ma questa cosa aumenterà sempre di più sentiremo ingegneri sentiremo genetisti sentiremo fisici eccetera eccetera perché perché di fronte a certe immagini di fronte a certe conoscenze di fronte a certe evidenze che sono chiaramente tecniche precise bisogna sentire chi se ne intende perché gli egittologi non studiano queste cose qui o meglio le guardano e a loro viene insegnato a interpretarle in chiave simbolica allegorica eccetera però sono cose che ripeto non mi convincono e siccome sono chiamato a parlare io dico ciò che non mi convince e dico in queste cose voglio sentire qualcun altro e invece mi dicono no che non lo devo fare però mi spiace io sono libero di farlo per esempio in questa cosa qui io adesso vi faccio sentire che cosa dice un ordinario cattedratico docente del Politecnico di Torino che quindi guarda questo dal punto di vista dell'uomo di scienza ok senza essere condizionato senza essere condizionato da interpretazione né tanto né poco da interpretazioni allegoriche simboliche no dice io guardo quella roba lì e quella roba lì è professor Francesco Marino buonasera grazie la prima volta che mi è successo di vedere quell'immagine non ho pensato né ad allegoria né al mistero né a cose occulte cioè è talmente chiaro che è una specie di meccanismo atalico nel senso che io come tanti altri ho studiato chimica fisica e sui libri di chimica e fisica c'è un'immagine molto simile a quella certo non ci sono questi personaggetti tanto simpatici qui sotto ma questo involucro questo cavo questi personaggetti fra l'altro hanno una loro importanza non sono e quando io l'ho visto subito ho pensato a uno strumento scientifico che si chiama tubo di crux questa roba qua è stata vista a metà dell'ottocento a metà dell'ottocento ancora non era stata costruita la lampadina la lampadina è un'antesignale come strumento scientifico di quel sistema quindi non ci può non può esserci stato neppure come posso dire un travaso di idee oppure una indicazione verso una direzione cioè chi l'ha vista non sapeva proprio niente perché non c'erano le lampadine non c'era niente allora questa roba appartiene a un capitolo della chimica o della fisica che si chiama scalita elettrica nei gas rarefatti ha un nome complicatissimo neanche tanto ma è semplicissimo i tubi al neon il tubo al neon è figlio di tutta la tecnologia della scarica elettrica in gas rarefatti quando si incominciò a studiare la conduzione elettrica nell'aria si fessero degli esperimenti di questo tipo cioè si prendevano due poli uno positivo e uno negativo si applicava una differenza di potenziale una tensione crescente e si vedeva che tensione scaricava e si scoprì che questa scarica nell'aria avviene a tensioni molto elevate perché l'aria è in isolante e allora la prima cosa dice ma vediamo un po' questa roba se non ci fosse aria come scarica oppure se fosse aria rarefatta oppure togliamo l'umidità i fulmini sono legati a questa questione qua differenza di potenziale il fulmine scarica la differenza di potenziale è elevatissima quindi si può permettervi scaricare anche in aria seguendo però linee preferenziali infatti il fulmine non scarica direttamente né quelli che dal cielo vanno verso terra né l'opposto da terra verso il cielo ma la linea è sempre zig zag perché segue la maggior conducibilità elettrica comunque per farla breve fu messo appunto uno strumento un apparecchio concepito in questo modo un tubo di vetro un'ampolla di vetro dentro la quale veniva praticato il vuoto quindi ci voleva una pompa che aspirasse in modo da fare il vuoto dentro questo tubo di vetro saldato agli estremi c'erano due elettrodi due piastrine metalliche collegate da due cavi e a questi cavi veniva applicata una tensione crescente e si è visto che maggiore era il vuoto e più facilmente la scarica avveniva quindi c'era una scarica elettrica lunga questa scarica elettrica non era perfettamente lineare zig zagava come zig zagano i fulmini e poi da lì si scoprì un sacco di cose perché ad esempio se davanti a un polo si mette un elettrodo si possono generare i fenomeni di fluorescenza di fosforescenza di produzione raggi X cioè è proprio un capitolo gigantesco che si chiama scarica elettrica nei gas velefatti il disegno che riporto nei libri di fisica e di chimica è esattamente un'ampolla un elettrodo quello laggiù fatto a forma di fiore l'altro elettrodo qua un cavo un sistema isolante che tenga su questa roba perché comunque ci vuole almeno 1000 watt da 1000 watt in su per far scoccare l'arco e poi arrivato ad una certa differenza di potenziale scocca l'arco parte e va così parte dal polo negativo e va verso il polo positivo naturalmente chi ha raffigurato questo qualche licenza poetica se la sarà per presa nel senso che è carino pensare che questa scarica possa essere uno che non sa nulla di scariche elettriche può pensare ad esempio a un serpente perché serpenteggia la scarica se ci sono degli isolanti per tenere su questa roba qua magari può anche disegnare due ragazzotti che hanno un isolante qua sulla testa per tenere su un tubo l'altro elettrodo uno è lì e l'altro è qua e l'elettrodo deve essere messo deve essere isolato perché se no scarica terra e non generiamo la differenza di potenziale e infatti qua ci sono due braccette che tengono su e qua queste cose qua se uno guarda i fili sono lì guarda i fili dell'elettricità quelli sono del telefono ci sono gli isolanti ci sono gli isolatori sono esattamente fatti così né più né meno allora questa roba appartiene ma proprio non c'è nessunissimo dubbio cioè non bisogna scomodare nulla uno vede quello e dice scarica elettrica tubo gas rarefatto crux raggi x eccetera se poi uno vuol fare il poeta può dire tutto quell'altro che vuole però quella roba è così certo che a vedere questo fa battere un po' il cuore perché innanzitutto bisogna possedere la tecnologia di costruire un'ampolla di vetro un'ampolla di vetro chiusa poi aprirla all'estremità infilarci dentro due elettrodi bisogna sapere cosa sono gli elettrodi bisogna saper costruire due cavi ad alta tensione quindi con l'isolante intorno perché se no basta solo questa breve distanza scarica nell'aria e così via bisogna poter sistemare l'anodo e il catodo bisogna avere la capacità di regolare la differenza di potenziali dell'ordine di mille duemila cinquemila diecimila volt non è una cosa che si fa facilmente cioè se a me dicessero Francesco hai studiato tanti anni fallo certo che telefono compro un cavo ma se mi devo mettere a fare il cavo mettere l'isolante lavorare il vetro il vetro giusto saldare perché qua non deve passare nulla lì quindi quel cavo che passa dentro poi il vetro deve essere sigillato intorno quindi non è così facile ma voi sapete anche una fonte di energia che dà tutto nell'oggetto questo o no? è ovvio ci vuole qualcuno che genere una differenza di potenziale di mille o cinquemila volt perché le dinamo normali anche pedalando poi a quei tempi non ce n'era e quindi io credo che per fare una cosa ci voglia una tecnologia piuttosto raffinata ed elevata poi io mi fermo qua perché non ti voglio rubare la scena no figurati grazie non mi hai non mi hai rubato la scena? non temo di essere radiato dall'albo dell'interno perché quella roba dice se tutti mi liberano quindi tra l'altro il professore è una mente del Politecnico di Torino allora è questo che intendo io guardare con disincanto le cose perché uno dice come ho detto prima siccome non è possibile allora non è vero no facciamo finta che sia vero e magari scopriamo che è possibile il professor Graziano Baccolini docente Università di Bologna esattamente come il professor Marino lui citando i commentari che Proclo ha scritto sugli studi di Platone dice che Platone conosceva benissimo l'equivalenza tra energia e materia sapete quella scoperta da Einstein e com'è che la conosceva? gliel'han detta i sacerdoti egizi e com'è che i sacerdoti egizi la conoscevano? gliel'han detta i loro dei e chi erano i loro dei? andate a vedere la conferenza la scienza della creazione sentite il professor Baccolini docente all'università di Bologna dire i loro dei erano antichi astronauti docente all'università di Bologna cioè ci sono i docenti che hanno il coraggio ci sono gli accademici che hanno il coraggio di parlare chiaramente di portare fino in fondo fino alle estreme conseguenze le ipotesi io non dico è vero io non dico è vero ma se facciamo finta corriamo il rischio di avvicinarci alla verità perché altrimenti continuiamo a passare i decenni con i simboli ah sì questo il loto il simbolo della vita la scintilla della vita andiamo avanti cos'è questa roba qui? cos'è? ma voglio dire uno lo guarda e che cosa pensa che sia? andiamo avanti fa parte di un abbigliamento di un egizio nella tomba di Ramses 9 avete mai visto degli egizi vestiti così? se chiediamo un egittologo ci dice che è un abito cerimoniale quando l'ha fatto vedere per la prima volta si è alzato un cattedratico professor Garavelli infettivologo che ha detto ma io so che cos'è quella roba lì ha detto è come ci vestiamo quando entriamo dentro le stanze ad alto rischio di infezione batteriologica ci vestiamo così? tomba di Ramses 9 allora signori se noi facciamo finta che certe cose le conoscessero tutta una serie di elementi ci diventano chiari ma anche questo sapete è un risvolto biblico? ma sentite qua sapete che nella Bibbia c'erano pochissimi era la famiglia di Eronne i sacerdoti che potevano entrare nella parte più intima diciamo più interna del tempio che Iaves era fatto costruire quel tempio smontabile mobile che si era fatto costruire nel deserto e nella parte più intima era custodita l'arca dell'alleanza che era uno strumento potentissimo e pericolosissimo tant'è che lo potevano usare soltanto pochi lo potevano usare in certi momenti lo potevano usare vestiti in un certo modo perché altrimenti come dice chiaramente la Bibbia si moriva i due figli di Eronne che sono entrati in un momento in cui non dovevano sono morti fulminati e non dobbiamo dire perché Dio era cattivo dice siete entrati adesso che non mi piaceva vi ammazzo voglio dire era un criminale colossale ma diciamo non è che siccome siete entrati un attimo adesso allora vi ammazzo sono morti perché sono entrati in un momento in cui non si doveva non si doveva sentite come dovevano entrare fecero il manto dell'efod che era il mantello che copriva tutto qui c'è scritto lavoro di tessitore in ebraico c'è scritto lavoro di progettista cioè così come per l'efod l'ha fatto uno che faceva dei progetti non un sarto l'apertura nel manto perché si infilava dalla testa nel mezzo era come l'apertura di una corazza intorno all'apertura c'era un orlo perché non si cerasse non sembra la descrizione di quella roba lì guardatela si infila dalla testa e intorno al collo c'è un rinforzo perché non si strappi ci raccontano la stessa storia dopodiché può non piacere non me ne frega nulla io vado avanti stanno facendo di tutto di tutto alcuni di voi forse lo sanno cosa stanno facendo per cercare di fermarmi stanno facendo di tutto non me ne importa nulla io faccio come Schliemann io vado avanti facendo finta che sia vero allora io dico una cosa del genere può andar bene se entro dentro la stanza dove c'è l'arca dell'alleanza che è strumento pericoloso e potente e allora entro dentro schermato ma quando mai avete visto un egizio così che bisogno hanno di farlo che bisogno hanno cioè ma veramente è un po' il discorso che facevo prima il metodo siccome non è possibile allora non è vero cioè siccome non è possibile che gli egizi avessero dei caschi così allora non è vero allora devo inventarmi altro no io faccio finta che sia possibile e nessuno può impedirmi di fare finta nessuno può impedirmi di fare finta e quindi io vado avanti a fare finta soprattutto sulla scorta di ciò che ho visto con la Bibbia qui c'è una persona e ovviamente non dico chi è per ovvi motivi che ha contatto con degli ebrei molto importanti molto importanti ma tanto e questa persona mi dicono questi ebrei mi dice questi ebrei non solo confermano quello che dici tu ma vanno molto oltre questa persona mi scrive non solo confermano quello che dici tu ma vanno molto oltre ora questa cosa qui io ovviamente non la posso dire ma me la tengo per me me la tengo per me perché è un tesoro cioè nel senso serve a darmi la determinazione non ho bisogno di raccontarla ho bisogno che mi crediate perché tanto non dovete credermi lo dico sempre se vi interessano queste cose qui le usate voi per fare i vostri ragionamenti finito basta cioè io non ho gruppi non ho niente niente ognuno va per la sua strada non venitemi dietro perché io non so dove vado quindi non venitemi dietro voglio dire io quindi io vi offro delle cose voi ne fate quel che volete però serve a me per la mia determinazione così come per esempio nel futuro parleremo dell'Ankh sapete quel simbolo egizio e ne parleremo con anche lì un altro uomo di scienza che ce lo spiega ce lo spiega al di là di quelle che sono le spiegazioni allegoriche che ci vengono date perché appunto bisogna andare avanti in queste cose qui però bisogna avere un pochettino il coraggio di farlo e allora questa per esempio è una cosa che andrà spiegata ma ripeto se io la leggo nella Bibbia è scritta in due posti un altro capitolo esodo 28 è scritta di nuovo esattamente uguale mi spiego quindi allora a fianco delle interpretazioni allegoriche cominciamo a far parlare uomini di scienza che sono disponibili e magari troveremo altre cose altre cose molto più concrete altre cose molto più comprensibili altre cose molto più logiche e molto più sensate nel rispetto di ciò che vediamo perché altrimenti finiamo neppure per rispettare ciò che vediamo quella immagine è stata ritrovata in un posto particolare è stata ritrovata in un posto dove in genere i turisti non entrano tanto pagando nella data il dottor Paolo Pietrapiana che posso citare quindi non c'era c'è un contesto dove c'è quell'acqua mi ha dato guarda questa è la foto originale che mi ha dato insieme a altre decine di altre cose che riguardano il Sinai eccetera così come io conservo dentro di me una cosa che mi ha detto un egittologo di quelli ufficiali di quelle che fanno il lavoro da egittologo non quelle che siccome sono laureati in egittologia poi fanno tutt'altro lavoro e poi mi attaccano ma una che fa l'egittologa veramente e mi ha detto non nominarmi mai perché mi rovini quindi non dico neanche di dov'è e quindi quello che sto per dirvi ovviamente non ha nessun valore perché non ha fonte e quindi potrebbe essere una cosa che mi invento io ma non me ne importa siccome me l'ha detta ed era una cosa che già pensavo anch'io quindi lei me l'ha confermata io ve la ridico dopodiché buttatela via subito non ha importanza perché serve a me serve per la mia determinazione per dirmi Mauro sei sulla strada giusta perché quelli che poi ti parlano ti raccontano delle cose questa egittologa mi ha detto sai il libro egizio dei morti che viene interpretato in chiave allegorica con siccome lei l'ha studiato molto bene da egittologa con mente aperta anzi più che studiato vabbè ma detto è la descrizione di tutta una serie di passaggi tecnici che subisce un corpo che viene ibernato qui fa un lungo viaggio e si sveglia da un'altra parte è un libro tecnico e la pesa siccome in queste cose qui c'entra anche il discorso del loro in particolare del loro monatomico sapete che a metà c'è la pesa perché questa è la scena più importante la pesatura dell'anima per cui dice se l'anima è più leggera lo sapete che l'oro monatomico contrasta la forza di gravità e quindi non solo perde di peso lui ma fa perdere di peso il contenitore e quindi quella misura lì di peso vuol dire che se è più leggero sta funzionando sto buttando lì sto buttando lì ma io come sempre faccio finta perché tanto io non devo rispondere a nessuno e quindi me ne frego che devo rispondere a me stesso e alle persone che se sono interessate comprano i miei libri che tra l'altro non ci sono neanche guardate parlo gratis e non ci sono neanche i libri da vendere più di così cosa posso fare? cioè non lo so posso anche farmi frustare mentre pagare due che mi frustino uno davanti e uno dietro così faccio anche penitenza mentre parlo va bene allora voglio dire che se noi lo vediamo dal punto di vista tecnico viene fuori un discorso di un fascino incredibile da pelle d'oca cioè di corpi che venivano preparati qui per un lungo viaggio e poi gli egizi che arrivano dopo non lo sapevano più fare e quindi i poveretti cercavano di emulare preparando il corpo dei faraoni dandogli il cibo ma non lo sapevano più fare perché avevano perso il contatto e la conoscenza ma questa roba qui almeno per me è immensamente più affascinante di tutte le favole che ci hanno raccontato sopra per me per me siccome sono chiamato a parlare io parlo racconto le mie cose poi chi non è d'accordo va bene per carità come con Renzo ci prendiamo un caffè assieme siamo amicissimi ma che problema c'è? nessun problema nessun problema però ci sono delle cose che se viste nella loro concretezza sono immensamente più semplici di quelle che ci vengono raccontate e dal mio punto di vista più belle cioè pensare che facessero questi viaggi o pensare come c'è nel Salmo 24 la descrizione di porte spazio-temporali adesso non ne parlo oggi perché attraverso oppure vediamo magari non lo so a me interesserebbe allora se lo segni voi vediamo che sono nel Salmo 24 eccetera quindi voglio dire ci sono tutta una serie di cose che sono di un fascino inenarrabile cioè io mi occupo di queste cose da decenni ma mi viene ancora la pelle d'oca per fortuna per fortuna perché so ancora a meravigliarmi e mi piace questo meravigliarmi come un bambino di fronte a certe cose mi piace proprio tanto e allora appunto di fronte a questo quando si alza il professor Garavelli che dice ma io quella roba lì la conosco esattamente come ha fatto il professor Francesco Marino ma guardi guardi quello ma è talmente chiaro che per negarlo bisogna inventare invece basta guardarlo e dire questa è quella roba lì 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 è finito basta è per negarlo che bisogna inventare esattamente come per dire che la Bibbia parla di Dio che bisogna inventare perché non c'è bisogno di inventare se uno legge la Bibbia e il professor Garavelli che non inventa dice ma io l'abito lì lo conosco benissimo ma allora di fronte a queste cose c'è bisogno di andare avanti ad inventare sì perché se uno capisce che allora c'era un certo tipo di tecnologia come ci ha spiegato il professor Francesco Marino dice da dove arriva sta tecnologia chi è che produceva quella corrente chi è che era in grado di lavorare il vetro in quel modo lì e così via e parte tutta una sequela di domande che come dice quell'archeologo alle quali non si sa cosa rispondere allora mentre venivamo su in macchina poi lo chiamo Francesco perché insomma spero di collaborare con lui visto che è una mente del Politecnico eccetera lui parlando appunto di certe cose diceva sì perché in piemontese diceva sì perché poi in realtà quando certe cose sono un po' così allora la risposta è tutte vale e no 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 non va più bene perché magari la risposta la possiamo ipotizzare quindi tutte vale è troppo semplice è troppo semplice ok e quindi andiamo a cercare qualcosa di più intrigante che non tutte vale mi spiego andiamo avanti questa roba qui mettiamo magari l'altra più grande è una foto fatta nel cunicolo buio della scala della piramide di Cheope è un'immagine che un fisico della TUM cioè del Politecnico di Monaco di Baviera che lavora con l'istituto Bax Planck ha detto che è stato bloccato un decadimento di particelle subatomiche cioè lì dentro entrano le onde nella piramide di Cheope entrano le onde gravitazionali e avvengono certe cose tant'è che la gente non lo sapevo neanch'io mi è stato detto quindi che di notte che di notte delle equip di fisici piazzano dei macchinari li lasciano tutta la notte per fotografare questi fenomeni alle particelle subatomiche per esempio in primavera c'è un equip di giapponesi un equip di australiani ma la cosa è continua il laboratorio di cosmo geofisica a Torino al di là del Po nella notte vennero i neutrini che attraversano esattamente sotto la collina torinese quindi fanno attraversare centinaia di metri di terra e poi vengono fotografati diciamo non bisogna andare lontano esattamente però cosa succede con la piramide di Cheope che notizia pubblicata sul Journal of Applied Physics la piramide di Giza riuscirebbe a concentrare energia elettromagnetica nel futuro sarà quindi possibile la realizzazione di nanoparticelle ispirata alla struttura dell'imponente edificio allora se la piramide di Cheope è un concentratore di energia chi l'ha costruita forse lo sapeva se noi chiediamo all'egitologia tradizionale ci dice che è un che è una tomba ma ormai lo sanno anche i Maus che non è una tomba lo sanno anche i Maus notizia di Nuova Dall'Ans al di là delle leggende la piramide di Giza è stata studiata con i metodi della fisica ed è emerso che riesce a concentrare energia elettromagnetica si potrebbero così progettare nanoparticelle ispirate alla struttura di questo edificio che siano in grado di riprodurre un effetto analogo nel campo dell'ottica per esempio da utilizzare per ottenere celle solari più efficienti cioè concentrare e produrre energia adesso tra l'altro si stanno scavando tutti i cunicoli che uniscono le piramidi tra di loro quelle di Giza e la Sfinge per cui si sta cominciando a parlare del sistema piramidale non più della singola piramide che dovrebbe essere una tomba che non è ma di un sistema ecco però questa roba qui chi è che ce la spiega? Ce la spiegano i fisici perché gli egittologi non studiano queste cose qui quindi è inutile far vedere cose del genere era un egittologo perché non sa cosa dirti e invece appunto un uomo di scienza ci dice che cos'è ci dice dove si riproduce come si può riprodurre ma addirittura addirittura per le immagini che abbiamo visto prima della purificazione del tempio di Luxor quel fenomeno a meglio quell'atteggiamento attuato dai sacerdoti di nascondimento è stato talmente efficace e continua fino ad ora che dall'università di Chicago scrivono nei loro studi che noi dobbiamo considerare che gli stessi antichi egizi avevano perso la comprensione delle cerimonie che si facevano nel tempio di Luxor cioè l'avevano nascoste talmente bene che neppure più gli egizi sapevano che cosa avveniva lì dentro figuriamoci noi che continuiamo a dare le spiegazioni allegoriche misterico simboliche adesso noi abbiamo altri sistemi di indagine adesso noi abbiamo altre conoscenze quindi forse possiamo andare oltre un po' gli antichi egizi ma io penso alle macchine idrauliche che i sacerdoti egizi si sono fatti costruire penso per esempio da Erone di Alessandria macchine idrauliche per ingannare il popolo non so se avete mai sentito parlare del cavallo di bronzo che beveva l'acqua dal bacile di bronzo che era una macchina idraulica che creava il vuoto dentro il cavallo il vuoto aspirava l'acqua e i sacerdoti convincevano la gente dicendo che il dio si era impossessato del cavallo oppure dell'essere alato che scoccava una freccia colpiva un drago e il drago urlava e allora dicevano che era il dio che si era impossessato dell'essere alato per scoccare la freccia oppure del carro volante dentro il serapeum tutte macchine fatte per ingannare il popolo nei libri che ho pubblicato con Mondadori parlo del Necromanteion che era il luogo diciamo sulla costa est dell'Adriatico gestito dai sacerdoti dove la gente andava per diciamo così illudersi di poter scendere negli inferi ecco quel luogo è stato studiato da ingegneri delle università greche e hanno visto tutti i meccanismi che utilizzavano per ingannare la gente che tra l'altro veniva tenuta a digiuno per tre giorni veniva drogata quindi poi entrava lì dentro in questi cunicoli semi bui e poi c'erano gli argani che tenevano i sacerdoti che sembravano volare cioè hanno scoperto tutto era un inganno continuo un inganno continuo addirittura le macchine idrauliche i sistemi ha soffitto per ingannare la gente e quindi convincerla che stava vedendo le anime dei loro defunti e poi gli davano gli oracoli eccetera hanno scoperto tutti i meccanismi meccanici proprio li hanno scoperti gli ingegneri e per questo io dico che bisogna andare oltre bisogna andare agli uomini di scienza che però non hanno il minimo condizionamento perché ci sono anche altri purtroppo altre persone che invece comunque no invece no bisogna persone che dicono ma io vedo quella roba lì e quella roba lì è chiarissima non c'è bisogno di inventare niente è quello dopodiché mettiamo raffronto per carità ci mancherebbe non si tratta mica di fare dello scontro tra dogmatismi ma ci mancherebbe però attenzione bisogna lasciare spazio anche a questi tipi di chiavi di lettura cosa che invece non si vuole fare non si vuole fare perché la chiave di lettura che deve rimanere è quella là e guai a chi la tocca e guai a chi la tocca chi la tocca deve essere bloccato no no si può toccare anzi si deve toccare perché non è più convincente cioè alla luce delle conoscenze delle possibilità che abbiamo noi non è più convincente vi dicevo prima che questa roba qui rappresenta un un sassolino nello stagno che ho gettato rispetto al macigno che arriverà ed è un macigno che arriverà in un lavoro che verrà pubblicato entro la fine dell'anno corredato da decine e decine di fotografie che faranno porre decine di domande in relazione alla storia che noi pensiamo di conoscere come vera del Medio Oriente e il primo capitolo è interamente dedicato all'Egitto ma ci saranno decine di fotografie appena sarà pubblicato lo manderemo a due docenti universitari del nord Europa con cui siamo già in contatto questo è un lavoro che era stato iniziato già nel 1600 e quindi viene citato quel lavoro lì del 1600 ed è un lavoro che ovviamente allora per il quale allora non disponevano diciamo degli strumenti di indagine di cui disponiamo noi e quindi è rimasto lì un po' così lettera morta invece adesso c'è modo di portarlo avanti adesso esce questo primo abbiamo già tutto il materiale per un secondo che non abbiamo messo in questo per non appesantirlo ma anche perché poi le implicazioni che ci sono anche in relazione alla nostra attualità sono tali e tante che è bene dare come dire il giusto spazio alle cose e quindi adesso entro la fine dell'anno esce questa prima parte ripeto questa roba qui del tempio di Luxor è un sassolino rispetto a quello che uscirà e se il sassolino ha scatenato tutto questo putiferio immagino che cosa succederà quando uscirà quell'altro però quell'altro avrà decine di fotografie quindi la gente le vedrà e si farà le sue idee tra l'altro è fatto con un appartenente alle forze dell'ordine una specialista in indagini storico-documentali insomma ci siamo divertiti parecchio anche se ogni tanto sbarravamo gli occhi di fronte alle cose che vedevamo però sono tutte descritte tutte descritte tutte documentate eccetera quindi diciamo che ci divertiremo andiamo avanti ecco qui cambiamo un po' discorso sempre rimanendo nell'ambito del metodo perché lo stesso metodo viene applicato in ambito scientifico anche con l'evoluzionismo cioè l'evoluzionismo è stato fatto diventare una sorta di religione per cui deve necessariamente spiegare tutto cosa che invece non è e a dirlo è proprio l'uomo che gettò nel panico Darwin e questo uomo si chiama Alfred Russell Wallace cioè la persona che con Darwin ha elaborato la teoria evoluzionista dopo dieci anni Wallace scrive caro Darwin la nostra teoria per l'homo sapiens non funziona la nostra teoria per l'homo sapiens non va bene la nostra teoria non spiega l'homo sapiens per l'homo sapiens bisogna trovare altro e allora hanno cominciato a dire che è come dire l'impazzito perché poi la prima cosa che si fa dice ah ma poi si occupava di spiritismo sì certo come ricercatore studiava lo spiritismo ma non perché fosse diventato matto ma come ricercatore sapete fine ottocento lo spiritismo era diffusissimo quindi si è messo a studiarlo in quanto ricercatore cioè lo studiava come fenomeno lo studiava scientificamente non che fosse impazzito ma siccome in quel momento la teoria di Darwin era funzionale ad una certa ideologia guai a chi si permetteva di metterla in discussione stessa cosa che comunque succede ancora oggi almeno in certa parte della scienza perché prima abbiamo visto un titolo questi sono due docenti universitari che dicono dov'è che Darwin sbaglia andiamo avanti questo qui è addirittura il preside del dipartimento di antropologia della Drio University il quale dice chiaramente che l'uomo è un animale fabbricato dagli dei fabbricato non creato da Dio è un libro degli anni 60 che non si trova più siamo riusciti ad averne due copie usate e ovviamente è un libro che non si trova più perché è un libro che mette in discussione le teorie dominanti è un libro che inizia a prevedere l'idea del terzo intervento dell'intervento intermedio tra l'evoluzionismo e il creazionismo cioè l'evoluzionismo che funziona fino a un certo momento poi però ad un certo punto per fabbricare l'homo sapiens è necessario ipotizzare che sia intervenuto qualcuno sentiamo cosa dice questo qui dice innanzitutto che la selezione naturale non ha nessun potere di produrre la perfezione in senso assoluto nessun potere di spingere un qualunque essere molto più avanti dei suoi simili cioè e lui spiega che il cervello dei selvaggi è esattamente uguale al cervello degli uomini civilizzati ma questo è anti-evoluzionistico o meglio si spiega solo se si pensa che il cervello dei selvaggi sia già stato programmato per poter acquisire tutta una serie di informazioni di cui loro però non hanno bisogno per la loro vita quindi la natura ha fatto un lavoro in quel caso inutile e dice quindi dovremmo dedurre l'azione di una mente che lavora che prevede e lavora per il futuro proprio come facciamo noi quando vediamo l'allevatore organizzare il proprio lavoro con il determinato proposito di produrre un dato miglioramento nella coltivazione di una pianta o nell'allevamento di qualche animale domestico mi prene qui sottolineare che il presente studio è del tutto scientifico e legittimo come quello sull'origine della specie dice Wallace e parla di due cose una è quella del cervello dobbiamo pertanto ammettere che il grande cervello posseduto di fatto dall'uomo non si sarebbe mai potuto sviluppare per nessuna delle leggi dell'evoluzione poiché queste per loro natura portano ciascuna specie a un grado di organizzazione esattamente proporzionato alle sue necessità mi sembra dunque che il cervello dell'uomo preistorico provi l'esistenza di un qualche nuovo potere di un potere diverso da quello che ha guidato lo sviluppo degli animali Wallace cioè quello che ha elaborato assieme a Darwin l'altro elemento importante è quello dei peli lui dice che è impossibile che noi siamo glabri per via delle leggi della natura anzi possiamo essere certi che in base alla legge della selezione naturale questo carattere cioè i peli non sarebbe mai potuto scomparire mai è scomparso per intervento di qualcuno perché non sarebbe mai potuto scomparire mi sembra dunque assolutamente certo che la selezione naturale non può aver prodotto il corpo glabro dell'uomo da un progenitore peloso attraverso l'accumulo di variazioni un qualche altro potere diverso dalla selezione naturale è stato coinvolto nella realizzazione dell'uomo la pelle nuda e sensibile rendendo necessari i vestiti e case avrebbe portato al più rapido sviluppo delle facoltà inventive costruttive dell'uomo eccetera quindi un'intelligenza superiore ha guidato lo sviluppo dell'uomo in una ben precisa direzione per uno scopo speciale esattamente come l'uomo governa lo sviluppo di molte forme animali tuttavia noi sappiamo che ciò è avvenuto e quindi dobbiamo ammettere la possibilità che se noi non siamo le massime intelligenze dell'universo qualche intelligenza superiore attraverso meccanismi più sofisticati di quelli a cui siamo abituati potrebbe aver diretto il processo grazie al quale si è sviluppata la stirpe umana quel libro lì leggetelo perché è un capolavoro ecco noi l'abbiamo messo in questo libro resi umani dove parliamo un libro scritto più di due anni fa dove parliamo appunto assieme al dottor Pietro Buffa biologo genetista ricercatore associato del King's College London dove parliamo appunto del terzo intervento cioè della possibilità dell'intervento intermedio e lì parliamo di una cosa che si chiama neotenia la neotenia è una caratteristica che abbiamo noi umani e che concerne e che riguarda questo fatto che noi da adulti manteniamo in sostanza tutta una serie di caratteristiche che abbiamo da cuccioli cosa che negli animali non è a partire per esempio da caratteristiche fisioanatomiche quindi se noi guardiamo per esempio la fotografia di uno scimpanzé cucciolo e la fotografia dello stesso scimpanzé adulto ci sembra di vedere due animali completamente diversi addirittura quasi appartenenti a due specie diverse perché lo scimpanzé cucciolo ha la faccia come noi bella piatta il cranio fatto come il nostro eccetera pensate ad uno scimpanzé adulto bene io dico per fortuna abbiamo fatto questo libro due anni fa perché adesso sta avvenendo questo che dei laboratori in Cina stanno inducendo la neotenia nel cervello dei macachi cioè stanno introducendo un gene non si legge bene la scrittura che è il gene MCPH1 che rallenta lo sviluppo del cervello dei macachi cioè rende lo sviluppo del cervello dei macachi simile al nostro cioè è il primo passo verso diciamo così la umanizzazione sono otto macachi se non sbaglio un esperimento cominciato alcuni mesi fa vedete che gli articoli sono sono recentissimi ma è l'esperimento per condurre la neotenia cioè che è esattamente ciò che c'è dentro di noi e questa cosa qui sta avvenendo cioè ci stiamo comportando dentro questi laboratori come si sono comportati gli Elohim hanno cominciato per gradi a produrre lo sviluppo di un certo tipo e noi adesso li stiamo imitando quindi queste cose che abbiamo scritto nel libro due anni fa adesso vengono non perché le abbiamo scritte noi ci mancherebbe ma diciamo vengono sperimentate e questo è secondo me affascinante perché è vero uno dice oddio stanno trasformando le scimmie in uomini ma tanto l'hanno già fatto l'hanno già fatto quindi non dobbiamo stupirci sapete tra l'altro come fanno introdurre questo gene usano il retrovirus dell'HIV cioè dell'IDS che funziona come un furgoncino cioè ci metti sopra la sequenza genica e lui te lo va a mettere esattamente dove vuoi tu cioè adesso fare attraverso una tecnica che si chiama CRISPR fare degli interventi sul genoma è facilissimo ovviamente per i genetisti i lavoratoristi è come scrivere al computer è come scrivere al computer quindi ovviamente possano intervenire sul DNA a piacimento e adesso hanno cominciato con questa cosa qui no 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 non hanno l'HIV perché probabilmente è disattivato lo usano proprio come furgoncino cioè come trasportatore perché lui sa andare dove viene diretto ma sta dicendo che quindi la CRISPR comunque nasce in modo artificiale che scelta direi di sì cioè nasce come strumento per intervenire sul DNA e poi forse sfuggito al controllo ho fatto sfuggire non lo so questo non lo so dire questo ovviamente non lo so dire ma rimanendo nel discorso del metodo ci sono un sacco di cose che devono cambiare perché per esempio tutti noi almeno insomma chi ha studiato filosofia ricorderà filosofi come Nassimena Nassimandro c'è qualcuno? sì ok e quindi ricorda per esempio il concetto di Aperon cioè di infinito che starebbe all'origine del tutto anche lì perché noi siamo abituati ad un certo tipo di interpretazioni che sono interpretazioni di ordine metafisico che sono quelle che tra l'altro hanno stravolto la Bibbia cioè nel momento in cui la filosofia greca è stata utilizzata per spiegare la Bibbia beh la Bibbia ha cominciato a perdere la concretezza di cui godeva tant'è che ci sono dei rabbini americani che non essendo condizionati dalla cultura classica europea diciamo sono giustamente arrabbiati da questo fatto dicono ma perché prendete la filosofia greca e la mettete dentro la Bibbia quando la filosofia greca con la Bibbia non c'entra niente assolutamente niente è perché se non si usa la filosofia greca il cristianesimo non esiste il cristianesimo è filosofia greca punto stop il cattolicesimo il cattolicesimo sì ma diciamo il cristianesimo dall'inizio dall'inizio sì perché l'elaborazione dei padri della chiesa partiva sì ma anche prima anche il lione di Alessandria vabbè comunque diciamo è la parte meno importante no stabilire se è soltanto cattolicesimo cristianesimo in generale il cristianesimo in senso universale diciamo le chiese cattoliche ah va bene va bene sono d'accordo sono d'accordo cattolica ortodossa cattolica protestante cattolica quello che vuole ah sono d'accordo no no perché per cattolicesimo qui in Italia si intende quella romana sono d'accordo ok allora non c'eravamo intesi sui termini e allora senza la filosofia greca non esisterebbe allora cosa succede succede che per esempio il filologo Semerano scrive in un libro l'infinito un equivoco millenario parlando di Aperon dice che in realtà Aperon non ha nulla a che fare con il concetto di infinito ma si riferisce alla materia e corrisponde esattamente al afar ebraico cioè alla polvere della terra cioè all'inizio di tutto c'era la materia o se preferite la materia e l'energia che sono convertibili l'una con l'altra non un concetto teorico di infinito dice questo filologo tra l'altro conosciutissimo non un concetto di infinito ma un concetto estremamente concreto e anche qui quindi ci sono evidentemente per lui delle cose da rivedere ma sono tante le cose da rivedere sono veramente tante perché tutto ciò che ci viene detto ci viene detto come se fosse vero necessariamente ma infatti materia e energia sono convertibili a seconda del livello di condensazione ecco esattamente quindi anche lì poi quando si parla di spirito bisogna intendersi perché no alle volte si discute di spirito ma ognuno ha una sua idea di spirito e quindi poi non ci si capisce eccetera e quindi ci sono tutta una serie di cose da rivedere da rivedere non soltanto per quanto riguarda ad esempio l'Antico Testamento cosa che ho fatto nei libri ma per esempio anche per quanto riguarda il Nuovo Testamento perché per esempio in questo libro qui del Nuovo Testamento dedicato al Nuovo Testamento uno dei capitoli che riporta pure uno schema preciso riguarda ad esempio la possibile vera età di Cristo sapete che Cristo sarebbe morto a 33 anni sul 33 su questo 33 è stato creato un simbolismo ricchissimo ricchissimo che si è sviluppato nei secoli un simbolismo a cui sono stati attribuiti un sacco di significati in realtà Cristo è stato messo in croce non morto è stato messo in croce quando aveva tra 41 e 43 anni questo è tutto documentato storicamente tutto documentato storicamente Cristo ha vissuto un periodo silente quando è tutto spiegato lì in un lungo capitolo ma solo per darvi l'idea un periodo silente quando si è accorto dopo le sue azioni iniziali che il popolo non lo avrebbe seguito e allora si è ritirato in Galilea ha rivisto la sua missione diciamo che ha cambiato le regole di ingaggio e ha ricominciato dopo la morte di Giovanni Battista dicendo adesso tocca di nuovo a me e per la morte di Giovanni Battista ci sono delle date precise precise che corrispondono a degli eventi storici conosciutissimi quindi su questo non ci possono essere dubbi perché la morte di Giovanni Battista è collegata a delle battaglie che Erode ha perso e sappiamo benissimo quando Erode ha combattuto quelle battaglie quindi non ci sono dubbi i dubbi tra i 41 e i 43 anni nascono dal fatto che non si sa bene se Cristo sia nato tra il 4 e il 7 avanti Cristo lo so che sembra una però questo lo dicono cioè tutti gli studiosi compresi tutti i teologi cioè tutti sanno tutti gli studiosi teologi delle università pontifici e vaticane sanno che Cristo non è nato nell'anno zero ma è nato tra il 4 e il 7 avanti Cristo lo sanno tutti quindi non è una cosa ecco il problema è che oltre a questa incertezza sulla data iniziale c'è la parte finale che la parte finale va post posta perché avviene dopo certi eventi dopo certi eventi quindi Cristo è stato messo in croce dopo certi eventi sapete quando c'è la scena di Cristo che arriva sul lago vede Pietro e che pescano e dice venite con me che vi faccio pescatori di uomini vero? e ci viene raccontato che il suo carisma era talmente grande e talmente importante che questi padri di famiglia dicono ah va bene ok ci fai pescatori un attimo che arrivo vado giusto a casa a avvertire mia moglie cioè abbandono tutto abbandono il lavoro abbandono la moglie abbandono i figli alla fame alla disperazione e arrivo no no lo conoscevano da molto prima quella è stata la seconda chiamata come dire ragazzi andiamo che adesso si parte e allora si arriviamo capite? ma questa cosa è chiara è chiara è tutta ben descritta basta leggerla l'ho descritta bene nel capitolo dei e semidei il pantheon dell'antico e nuovo testamento è la seconda chiamata come dire ragazzi tocca a noi ok va bene si fa sul serio sì allora andiamo ma c'è il rischio sì va bene però andiamo cioè non è che come dire hanno visto per la prima volta ah che bello sì cioè capite non ha senso non ha senso non ha senso perché era uno dei tanti rabbi del tempo che faceva determinate cose che ha cambiato le regole di ingaggio perché probabilmente i suoi diciamo i suoi capi gli avevano dato un compito nel quale non è riuscito tant'è che gli ebrei non l'hanno mai riconosciuto come messia perché il vero Mashiach ebreo non può perdere perché è inviato da Dio è supportato da Dio si fa per dire insomma da quello lì è supportato quindi non può perdere e quindi poteva soltanto liberare Israele Israele dal gioco straniero e basta non ci è riuscito non ci è riuscito perché il popolo non l'ha seguito lui ha cercato di farlo anche con quelle azioni dimostrative che ha fatto nel tempio ma il popolo ha detto vai pure avanti tu che noi non abbiamo bisogno di altri casini da parte dei romani vai pure avanti tu e lui si è accorto che non l'avrebbero seguito si è ritirato in Galilea perché sapeva che l'avrebbero messo a morte e quindi ha passato una decina di anni circa in Galilea a rivedere il suo progetto e ha cambiato il suo progetto era un progetto che prevedeva certe cose che prevedeva la sua sofferenza cioè il collegamento alla figura del servo sofferente di Isaia che si riferiva ad altro perché sperava che con l'idea del servo sofferente il popolo l'avrebbe seguito neanche così tant'è che il cristianesimo è nato là dove nessuno ha visto Cristo perché dove l'hanno visto e conosciuto il cristianesimo non è nato là dove l'hanno visto c'erano i gesuani non i cristiani cioè quelli della sua famiglia e i pochi che l'avevano visto che poi sono scomparsi Cristo è stato visto è stato creduto dove è stato venduto diversamente completamente trasformato in una figura che andava bene alla cultura ellenistica cioè alla cultura greco-romana che stava accettando un sacco di divinità che arrivavano dal Medio Oriente quindi uno in più uno in meno per i romani non cambiava assolutamente nulla fino a che i fedeli rimanevano fedeli anche all'imperatore che era l'unica cosa che interessava ai romani ma Cristo nella sua terra non è stato creduto e non è stato seguito tant'è che basta leggere anche il fatto che appunto Paolo è stato messo sotto processo dai gesuani poi la Chiesa ci presenta Pietro e Paolo come se fossero culo e camicia ma la Chiesa aveva bisogno di sostituire certe figure di gemelli del mondo cosiddetto pagano e quindi ha creato la figura di Pietro e Paolo ma Pietro e Paolo non andavano d'accordo su nulla su nulla perché Paolo ha fatto tutta una sua strada che descriviamo anche lì tra l'altro Paolo e anche questo è documentato qui Paolo parla di una sua possibile malattia sessuale un problema e dice siccome voi non potete essere come me che culo allora prendetevi almeno una moglie sola così almeno non cedete alla libidine perché se foste tutti come me non ci sarebbe come dire problema di cedere alla libidine il che vuol dire che forse la misoginia che c'è all'interno della Chiesa nasce da una disfunzione sessuale di Paolo quella cattolica però romana si chiedo scusa devo sempre precisare ha ragione della Chiesa cattolica romana sono abituato visto che siamo all'interno ha ragione ha ragione e quindi della Chiesa cattolica romana la misoginia che c'è forse ha origine da una disfunzione sessuale che nei secoli poi è stata teologizzata veramente siamo e qui poi ci sono tutta una serie di altre cosette allora facciamo una cosa visto che poi ci sono sempre tante domande vogliamo provare a fare un pezzo di domande poi vediamo prego ok allora una domanda riguarda l'ultima cosa che hai detto su Cristo che ha fallito il suo compito cioè hai detto il compito che gli han dato i suoi capi mi riferisco agli el a cui lui si riferiva perché quando lui è sulla croce dice el i el i lembas bakhtan i cioè el mio el mio perché mi hai abbandonato in realtà in realtà in quella frase lì c'è una stranezza perché c'è una parola aramaica che non ha corrispondenti nelle radici ebraiche mentre tutto il resto della frase è ebraica quindi pare che ad un certo punto qualcuno abbia fatto una sostituzione perché tanto chi leggeva quei vangeli non conosceva né l'ebraico né l'aramaico perché in ebraico probabilmente perché questo si rifà ad un salmo nel quale un sacerdote lamenta di essere stato ingiustamente condannato e dice esattamente la stessa frase ma in ebraico sarebbe stata hasavtani cioè perché mi hai condannato non perché mi hai abbandonato quindi in quel momento c'è la sostituzione di questo termine aramaico a quello ebraico è servita a presentare la figura di Gesù come il servo sofferente sì certo che è lì che soffre però accetta diciamo patisce questa apparente solitudine ma accetta se invece risaliamo al possibile significato vero lui lì è incazzatissimo e dice perché mi hai condannato come dire non doveva finire così non doveva finire così e quindi si riferisce al suo el che non vuol dire dio nessuno sa esattamente cosa voglia dire qualunque traduzione è un'ipotesi quindi è bene lasciarlo così hai parlato all'inizio della scrittura planetaria lineare c'è un tempo in cui questa scrittura può essere collocata come origine cioè quando è stata scoperta quando è nata allora era ancora presente in epoca preceltica ok quindi 4-5 mila a.C. era ancora presente scusa volevo se possibile solo una breve parentesi riferendo a quello che dice lui non ti sembra che la scrittura lineare possa assimilarsi alle scritture paleolitiche sulle rocce sulle montagne quelle linette una vicino all'altro sì 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 la mia considerazione io credo è una domanda io credo che per quanto si possa mascherare qualsiasi verità qualsiasi cosa io non sono democratico io non sono egalitarista credo che ci sia sempre qualcuno che dal punto di vista intuitivo e non razionale e questo poi si sarebbe da sviluppare il discorso riesca ad intuire qualcosa che c'è dietro poi ognuno intuisce quello che può forse ti spiego e poi arriva la domanda ti spiego quando mi invitavano a parlare congresso sono un medico in pensione portai tanti anni fa a un congresso l'idea del DNA no? il serpente i serpenti incrocianti che sono simbolo della medicina da sempre e ho letto anche quello che tu dici eccetera ma in tutti i segni in tutte le culture ma soprattutto quelli due incrociati e quello singolo sono banalmente secondo me il DNA no? è una cosa talmente evidente che ecco allora portai questa cosa e ovviamente ci fu quello che ci fu questa è solo una considerazione per cui voglio dire ognuno di noi riesce ad intuire riesce ad intuire le cose nonostante il mascheramento adesso arrivo alla domanda che mi interessa particolarmente il tuo parere cerco di sintetizzare non credi dunque intanto da quello che io capisco i Vangeli per quanto si possano manipolare mascherare trasformare quello che vuoi però c'è un'idea di fondo che è un'idea antisociale cioè il signore io sono cristiano non cattolico non protestante ho frequentato di tutto ma mi fanno orrore le religioni ora mi pare di capire che ci sia un afflato in quello che possiamo conservare le parabole nei Vangeli insomma più antichi di una forma antisociale chi ama il mondo odia a me eccetera domanda non pensi che il padre Gesù Cristo ci insegna a pregare parlando del padre non di Dio Dio è un termine greco eccetera vabbè lo sappiamo questo è questa idea di padre non credi che sia un po' simile tanto per fare un paragone agli ignostici ai catari che pensavano in due dei diversi il Dio di questo mondo non ti sembra che sia un Dio bestiale tu hai detto bene Yahweh era un pazzo criminale le religioni avvengono tutte cioè le guerre avvengono tutte per motivi di Dio forse anche Hitler contro forse c'è gli dei neri che suggerivano l'uno forse gli neri non si sa da che parte stanno gli americani che hanno fatto la bomba vabbè tutti questi discorsi quindi la domanda diretta non so se ho sintetizzato è difficile dire due cose in poche parole non credi ripeto la domanda che il Padre di nostro il mio Signore non so se è tuo sia 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 il Padre inconoscibile e invece il Dio che tutti invocano sia il Dio di questo mondo in altre parole Satana o comunque un alieno nero che governa il mondo è chiara la domanda la domanda è chiarissima la domanda è chiarissima no no davvero davvero chiarissima chiarissima sono un po' verboso no 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 ma non c'è problema non c'è problema la domanda è chiarissima e devo dirti onestamente che io non sono in grado di identificare qual è l'el a cui lui faceva riferimento perché dicono Elia lama sabachthani parla di Elia perché 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 allora perché Elì siccome in ebraico viene scritto anche come Elia allora Elì c'è chi è sotto lo sente poteva sentire come se avesse detto Elia per cui poteva essere confuso quindi qualcuno può aver sentito diciamo sta chiamando Elia perché il nome era simile quindi è un'assonanza però dirti esattamente a quale è lui facesse riferimento non lo so l'unica cosa invece questa mi sento di dirti è che secondo me non faceva riferimento allo Yahweh dell'Antico Testamento ok mi basta ecco di fatti era questo che volevo dire esattamente no esattamente no no non si rifaceva quello grazie prego scusa guarda che i sacerdoti cioè i cattolici hanno cominciato a avere questa astensione sensuale e poi vengono i loro preconcetti a insegnarci a noi quando ci sposiamo e i diritti cioè come si dice ecco ma si dice a matrimonio ci fanno le edizioni pre-matrimoniali a me che scopano più di noi ma questo no ma scusa scopassero solo andrebbe bene cioè non è un problema il problema è quando rovinano i bambini allora lì quando si rovinano i bambini è un problema hanno i sacerdoti anche quelli cattolici romani all'inizio potevano sposarsi poi è nato il problema dell'eredità è tutto lì soldi ma la ragione è una revisione pagana dei sacerdoti in Cibele si castravano cioè un culto mariano al contrario sì 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 però per la per la romanità per la romanità il discorso delle veramente allora se tu sei un sacerdote pensi e hai una famiglia pensi alla tua famiglia invece raccogli per la chiesa capisci? ancora una domanda sono medico anche io tranquillo la circoncisione perché è nata la circoncisione? la circoncisione è nata come ordine diretto di Yahweh non era applicata soltanto dagli ebrei di Yahweh era applicata anche da altri popoli e se stiamo alla Bibbia letteralmente è nata come segno di appartenenza all'alleanza allora diciamo questo che come segno di appartenenza all'alleanza avrebbe un senso nel senso che è nascosto ma controllabile nel senso che è sotto la tunica però all'occorrenza lo controllo tant'è che se ci riflettiamo un attimo pensiamo alla storia di Sodoma e Gomorra quando Abramo siamo nei capitoli 18 e 19 della Genesi quando Abramo si trova nella sua tenda arrivano tre personaggi lui li riconosce subito come appartenenti diciamo ad un altro gruppo noi infatti li chiama Adonai signori miei al plurale dice venite rifocillatevi lavatevi eccetera 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 poi quello che si chiama Yahweh rimane lì a parlare con Abramo e gli altri due vanno a Sodoma ad avvertire Lot dicendo Lot vieni via perché noi qui domani facciamo saltare tutto ok quello Yahweh che rimane con Abramo discute con Abramo e gli racconta dice guarda che noi lì adesso facciamo saltare tutto perché questi stanno cambiando alleanza cioè non rispettano più le mie leggi stanno cambiando alleanza e Abramo gli dice ma senti un po' ma se troviamo 50 giusti la salviamo? e lui dice vabbè se troviamo 50 giusti e se ne troviamo 40 e se ne troviamo 3 e fa una sorta di trattativa ora i giusti come si trovano? come si trovano? cioè se troviamo 50 anche perché attenzione noi quando pensiamo ad una città pensiamo alle nostre città Sodoma aveva qualche centinaio di abitanti quindi trovarne 50 che fossero stati dalla loro parte 50 tra i giovani combattenti voleva già dire tanti perché uno dice 50 cosa sono? ma una città che abbia 900 abitanti 1000 di combattenti ne avrà 300 il resto sono donne e bambine anziani quindi trovarne 50 vuol già dire avere una bella forza interna non un cavallo di troia all'interno allora come li trovi 50 giusti? fammi vedere a che alleanza appartieni ok? quindi una cosa molto molto semplice molto terra a terra ma io viaggio di cose molto terra a terra non c'entra niente l'ingiene attenzione poi questo può anche avere quel significato lì però nella Bibbia c'è scritto questo è il segno della mia alleanza il segno della mia alleanza lo dice espressamente quindi facciamo finta che sia vero ok? se c'è qualcuno che mi aiuta per dire quali sono le mani che si sono alzate prima perché io non ah la signora è una domanda molto stupida molto banale premetto lei all'inizio ha citato San Cugnato San Cugnato che non vuol dire San Cugnato no 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 è il nome unico è un nome fenicio no 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 non è San Cugnato no 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 si chiama così è un nome è un nome unico è un nome unico è un nome unico prego è capitato di leggere un libro che si intitola il codice della Bibbia dove si dice che un matematico israeliano aveva scoperto che un libro di Michael Drosnin fatto con Eliahu Rips dove lui diceva che codice genesi si chiama si si vuole dirlo al microfono così si sentono tutti si io volevo volevo sentire la sua opinione su questo fatto di quando loro hanno detto che avevano tradetto dove e quando il datista sarebbe stato assassinato Rabin quando è successo nel 95 ci sembra io volevo sapere la sua opinione con merito appunto a questo codice che si dice che sia nella Bibbia allora l'amico si riferisce a due libri scritti da un giornalista che si chiama Michael Drosnin una ventina di anni fa se non sbaglio questo Michael Drosnin ha scritto sulla base degli studi di un matematico israeliano che si chiama Eliyahu Rips e secondo loro mettendo assieme tutte le consonanti mettendole una dopo l'altra tutte le consonanti che si trovano nella Torah senza distinzione tra le parole in orizzontale o in verticale o in diagonale ci sarebbe scritta tutta la storia dell'umanità e nella fattispecie questo però è l'unico l'unico elemento che sarebbero riusciti a prevedere l'assassinio di Isaac Rabin poi lui era stato avvertito lui disse se scrivete nella Bibbia è giusto che vedeva esattamente allora poi parliamo di un'altra profezia bella mi l'ha fatta venire in mente va bene è l'unica perché per esempio nel secondo libro loro parlano del possibile assassino di Benjamin Netanyahu ora Benjamin Netanyahu per fortuna per lui è ancora vivo nel secondo libro io me lo ricordo molto bene anche se è una roba di vent'anni fa Michael Drosnin però ebbe l'astuzia di scrivere una cosa dice nella Bibbia c'è scritto tutto il futuro però l'uomo ha la possibilità di cambiarlo allora la domanda che faccio io è ma allora la Bibbia non ha previsto che l'uomo lo cambiava vero? e quindi quella volta gli è andata bene ok? questo è ciò che penso io ci sono la discendenza ad Amita poi i loro discendenti sono poi mescolati questo è il mio pensiero quindi non prevalentemente nella terra di Israele no no mescolati anche se c'è ancora chi dice di essere di discendenza noachita cioè di Noè tipo certe famiglie però cioè se andiamo a vedere per esempio nella componente genetica di degli ebrei asche naziti c'è moltissima componente genetica dell'Europa occidentale quindi lì tra l'altro il discorso sarebbe molto lungo molto complesso e molto difficile perché diciamo dal 1600 1700 in poi ci potrebbe essere stato un cambiamento notevole per cui non sarei neanche sicuro che quelli che governano veramente in Israele siano veri ebrei ma si può risalire però con la genetica i geni sono quanti di energia puro l'incrocio non è che il nero e il bianco diventano grigi quindi sono balle una parte nera una parte bianca una parte grigia e poi a distanza di tempo si ritornano esatto e quindi si può risalire per questo dico che non sono neanche sicuro che ok prego una domanda per il professor Marino ah che bello possiamo vedere di nuovo la foto delle lampade quella che se la domanda rispondevo di sciglie sicuro è una mia impressione si ecco esattamente allora il sostegno che vediamo quello che parla a destra esatto io lo identifico come lo Zed in particolare dell'architettura egizia istintivamente la prima volta che ho visto questa foto mi ha ricordato lo schema di una pila zinco carbone è una mia fantasia visto che lei ha parlato di anazol e catodo quindi dovremmo essere nell'ambito della corrente continua siamo sicuramente nell'ambito della corrente continua perché poi da qualche parte l'energia dovrà arrivare ah no ma certo prima è nata la corrente continua cioè i generatori più semplici sono i correnti di continua e dopo che è nata la corrente io mi ricordo che da ignorante mi mettono lo schema della pila zinco carbone come un perno centrale dove ci sono vari dischi in successione tra cui nel mezzo c'erano allora pensare che con una pila zinco carbone sia possibile arrivare a quelle differenze di potenziali è praticamente per quello che ne sappiamo noi è impossibile la storia della pila zinco carbone io per lo meno ma c'è un attore no 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 ma attiva una come si chiama una serie di pensieri perché io non so se loro hanno mai sentito parlare della pila di baltardo sì sì no non la racconto io in tanti hanno detto difficile poi magari separatamente due minuti non voglio rubare il rispetto troppo la pila di la pila di baltardo è fatta invece di carbone c'è del catrame cioè del bitume quindi sicuramente c'erano conoscenze relative alla costruzione di pine mi spiego meglio se io penso a questo non è che escluda che c'entrino le pile perché la conoscenza delle pile c'era di sicuro in modo generale tensione con le pile mi viene da escluderlo perché la differenza del potenziale è pur vero che nella pila c'è un anodo e un catodo quindi loro potrebbero aver collegato da qui e poi sembra quasi questo cavo partire da qui e allora quello è essere un generatore però con una pila generare un'alta tensione mi sembra difficile a me personalmente è un dissipatore invece che sembrano rette di rappresentamento sicuramente qui dentro la generazione della scintilla genera del calore però siamo nel vuoto quindi la propagazione del calore la conducibilità termica è bassa però sicuramente questo oltre ad avere ammesso che lo sia un potere isolante dal punto di vista elettrico lo è anche termico e anche questi signori qua messi così cioè sicuramente se si sviluppava del calore cosa possibile bisogna vedere fino a che temperatura tra l'altro se questo è vetro i vetri normalmente a 6-700 gradi ramolliscono quindi il tubo di crux classico che è fatto con un vetro che ha un po' più di silice comunque arriva a 7-800 gradi non di più non ci sono temperature così folli da portare a fusione al vetro la cosa più semplice io ho detto quello che quando io l'ho vista cosa ho pensato e poi come l'ho confrontato a me sembrano proprio gli isolatori che vennero messi nei carri in effetti hanno una forma che richiede addirittura chi conosce esattamente lei ha detto la parola chiave io sono la mia specialità sono i materiali e quindi penso proprio a un isolante a un isolante ceramico fra l'altro se fossero rispettate le leggi che utilizziamo noi ognuna di quelle barrette sono mille volt circa con materiali tradizionali quindi potrebbe essere mille, duemila tremila quattromila volt come differenza di potenziale però non mi voglio spingere oltre nel senso che anche perché poi è molto stilizzato molto schematizzato allora il disegno schematico e stilizzato è proprio tipico della civiltà egizia cioè il desiderio di stilizzare ma è chiaro che raffigura un circuito però è chiaro che raffigura cioè diciamo che ogni parte che uno vede ha un suo senso un suo senso cioè dal serpentello alle persone che si toccano con le mani a me hanno dato l'impressione di un interduttore molto schematizzato in questo momento c'è tutto e chiuso e poi in qualche modo allora c'è anche da dire ancora un altro se uno vuol proprio fare il fantasore qual è il simbolo del generatore di corrente in elettrotecnica è una barretta corta e una barretta lunga quindi infatti viene adesso non c'è una lavagna però è sintetizzato una barretta lunga una corta una lunga una corta poi c'è o il segno della corrente alternata o se no il corrente continuo quindi qua uno potrebbe pensare lunga corta lunga corta poi qua ne mancherebbe un pezzo e questo potrebbe essere il generatore della tensione qui e qui però io non so una cosa è certa cioè che il livello di conoscenze di questi signori qua c'è qualcosa che non può cioè io assicuriamoci se io sono all'altezza di capire queste cose capisco che lì dietro si nascogliano un sacco di cose ma non filosofie non strani non c'è bisogno di scomodare similitudine quello lì è un circuito elettrico punto e basta posso fare una domanda signor che bello sentire fare queste descrizioni tecniche finalmente invece di avere le solite cose di questi che vivevano in un mondo tutto no 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 lei mi deve raccontare una cosa curiosa parlando della teoria di dati quindi noi abbiamo questi elohim che vengono sulla terra nel facendo finita che operano solo il DNA degli uomini primitivi e li trasformano in quello che noi chiamiamo lo sapiens perfetto gli elohim o annunaki o chi per loro arrivano da un altro mondo perché le culture tutti ci dicono che ci sono gli idee scesi dalle stelle ma loro sempre nel facendo finta che sono stati a loro volta costruiti o hanno subito veramente non lo so se hanno costruito noi avranno costruito anche allora a questo punto la teoria di darvi completa o incompleta bucata o raffazzonata dovrebbe funzionare anche certamente però andare indietro nella storia fino a quel punto lì non sono in grado facendo un'opinione no 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 proprio cioè non mi sono fatto un'opinione perché tanto sarebbe veramente una pura fantasia mia cioè rimanendo a ciò che leggo nei testi dei popoli di tutti i continenti dico che sono dico ipotizzo che sono arrivati qui dei figli delle stelle che hanno fatto certe cose da dove arrivino e che cosa abbiano subito loro non lo so l'evoluzione è questo perché io ho sempre creduto la teoria di darvi è una cosa logica sensata ha fatto male è un sacco di gente che la mette in discussione un sacco di io dico semplicemente nei testi antichi c'è una possibile risposta nei testi antichi c'è una possibile risposta finito dopodiché possiamo dire è una cazzata assurda oppure possiamo dire vale la pena di prendere in considerazione tutto lì comunque Dottor Villino grazie grazie perché la Bibbia non l'ha mai letta nessuno era sempre nei cassetti delle osteriche ma questo è vero io dovrei farmi dare le royalties perché non l'hanno letta i cattolici perché i protestanti la leggono quando ho cominciato a vedere youtube ma c'è mi ha affascinato allora c'è un sacco di gente che mi dice questo che si è messa a leggere la Bibbia devo chiedere i diritti in effetti devo chiedere devo chiedere i diritti posso farlo posso farlo posso farlo posso farlo posso farlo adesso non posso farlo adesso riesce un po' dalle tematiche che ha spiegato prima a me è interessato moltissimo in due conferenze lei aveva accennato a Corbiciano nel 1915 e poi il 18.2 era già uscito sul giornale che 6 milioni di euro lei ovviamente ha detto che più avanti forse poteva dirci qualcosa di più ma già più avanti è già arrivato adesso le dico qualcosa di più è già arrivato oggi vorremmo grazie prego cioè lei mi ha letto nel pensiero perché ho tirato fuori dalla borsa allora l'amico eh vabbè però l'amico si riferisce a questo ad una cosa strana sappiamo che diciamo nella Shoah sono morti 6 milioni di ebrei non mi sogno di mettere in discussione il numero non mi sogno di mettere in discussione la Shoah va bene così accettiamo tutto c'è qualcosa secondo me di immensamente più grave che non stabilire se siano morti o no davvero 6 milioni di ebrei la cosa immensamente più grave è stabilire chi è che l'ha stabilito perché vedete a noi viene raccontato che c'è quel pazzo di Hitler che ha deciso di per i motivi suoi ha fatto fuori 6 milioni di ebrei punto tutto deve finire lì Hitler è morto gli altri suoi sono stati processati quelli sono i criminali quelli sono i cattivi poi ci sono i buoni eccetera dalla fine del 1800 nelle riviste giudaiche in diverse riviste giudaiche americane e nei più importanti giornali americani come il New York Times il Sun eccetera si parlava di 6 milioni di ebrei che dovevano morire in Europa all'inizio del 1900 anzi a fine del 1800 c'era già chi sapeva che 6 milioni di ebrei sarebbero morti quindi quando si scrivevano queste cose Hitler o non era ancora nato o succhiava il latte ma già queste cose si scrivevano non mi interessa ci sono tutta una serie di conteggi con i censimenti fatti prima e dopo non mi interessa niente il problema è che c'era già chi sapeva che erano 6 milioni e 6 milioni è la cifra che ci dice la storia tra l'altro questi 6 milioni ritorrono costantemente ancora adesso hanno detto che gli iraniani vogliono uccidere 6 milioni di ebrei quell'ebreo ha detto che 6 milioni di ebrei sono spariti perché c'hanno i padri ebrei e le madri non ebrei esattamente 6 milioni sono sempre 6 milioni benissimo lasciamo i 6 milioni e quindi è scritto nel New York Times del 18 ottobre del 1918 il Sun lo scrive il 6 giugno del 1915 addirittura l'enciclopedia britannica lo scrive nel 1902 nel 1911 nel 1916 e poi ancora l'Atlanta Constitution nel 1920 e così via per esempio il New York Times l'8 settembre del 1919 scrive che 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia perché stanno per essere completamente sterminati siamo nell'8 settembre del 1919 quindi c'è qualcosa quanto meno di strano da adesso stanno uscendo su dei siti di rabbini ebraici non vi sto a leggere tutte le altre cose e in libri come questi il fatto è che nella Bibbia levitico 25 10 c'è indicato espressamente you shall return cioè voi ritornerete quindi Dio dice voi ritornerete dopo che saranno spariti sei milioni di voi levitico 25 10 e lo dicono i rabbini ci sono i loro siti dove spiegano tutto e quindi dicono che in sostanza Dio aveva previsto il loro Dio che loro sarebbero tornati in Israele ma prima ne dovevano scomparire sei milioni poi se noi leggiamo tutti i rapporti per esempio che Hitler ha avuto col movimento sionista quantità immense di denaro nazista che è finito in Israele attraverso il movimento sionista eccetera leggiamo chi è che faceva scrivere quegli articoli nel 1800 riprendendo poi anche queste profezie che stanno tornando in auge ci chiediamo ma se era scritto io non ci credo ovviamente però lo dicono loro e quindi quindi mi metto dalla parte loro ma se era scritto per volontà di Dio cioè del loro Dio che sei milioni dovevano scomparire di chi è la responsabilità cioè se uno realizza la profezia di Dio che cosa bisogna fare a quello lì? non riberga come ha consigliato lei che cosa bisogna fare a uno che rende possibile la realizzazione della profezia di Dio come minimo una statua perché ha realizzato la profezia di Dio non sono io a dirlo lo scrivono che era lì Levitico 25 10 io non ci credo perché lo fanno attraverso non è che sia scritto così lo fanno attraverso l'analisi grammaticale di una parola nella quale manca una vav e dicono siccome manca una vav vuol dire che manca sei quindi noi torneremo solo dopo che sei milioni di noi perché milioni non lo scriviamo mai spiegano tutto loro i rabbini quindi non è interpretazione mia io leggo quello che scrivono non è interpretazione mia ma loro dicono lì è scritto chiaramente che sei milioni di noi devono scomparire altrimenti noi non possiamo tornare in Israele allora infatti non c'è scritto lo sto dicendo l'ho appena detto l'ho appena detto che partono dal presupposto che manca una vav nella parola siccome manca una vav manca un sei e quindi mancano sei milioni no no l'ho appena detto che non c'è scritto no 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 l'ho appena detto poi c'è la carta valpura in quel periodo sì esattamente esattamente quindi loro fanno un'analisi di questo tipo allora quello che voglio dire se era volontà del loro Dio ripeto abbiamo bisogno di altri responsabili certo possiamo considerare altri responsabili come esecutori ma di una volontà superiore se è vero questo così come i cattolici romani voglio essere preciso voglio essere preciso che condannano gli ebrei i cattolici romani se hanno diciamo così almeno teoricamente la possibilità di risorgere a vita eterna ce l'hanno perché qualcuno ha ucciso Gesù Cristo avrebbe ucciso Gesù Cristo perché se non l'avesse ucciso Dio non lo avrebbe potuto far risorgere e siccome la resurrezione di tutti passa attraverso questo sacrificio universale che vale per sempre che vale per ognuno se non l'avessero ucciso i cattolici romani non avrebbero la possibilità di risorgere quindi che cosa bisogna fare a quelli che l'hanno ucciso visto che Dio avrebbe mandato suo figlio apposta perché venisse ucciso in modo che lui attraverso quel sacrificio dalla valenza universale sia in termini temporali che in termini di estensione Dio voleva che lui venisse ucciso perché altrimenti non avrebbe potuto farlo risorgere prego sono tutti psicopatici tutte le volte che c'è Eucaristia sono d'accordo sono d'accordo ma esattamente quindi quello che voglio dire che cosa bisogna fare a chi ha ucciso Gesù Cristo quanto minimo santificarli quanto minimo santificare e invece no sono stati condannati insomma ci sono tutta una serie di incongruenze che sono palesi basta ragionare un attimino basta ragionare un attimino perché le cose sono evidentissime sono sotto gli occhi di tutti così come sono sotto gli occhi di tutti che il Dio nel quale si dice di credere i romani ha detto chiaramente non vi farete immagine di nessun tipo e questo è un ordine che non ha mai revocato tutte le chiese sono una bestemmia nei confronti di quel Dio lì ma anche i musulmani ce l'hanno ma non ce l'hanno però a me non sono stati fedeli che non hanno avuto immagini sapie da idolatrare esattamente cioè tutte le chiese sono una bestemmia bisognerebbe entrare nelle chiese con la Bibbia e dire via tutta questa roba qui via 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 perché Dio non vuole e invece la chiesa romana cosa ha dovuto fare ha dovuto sostituire tutte le varie cosiddette divinità pagane con altre semi divinità perché altrimenti col cavolo che si prendeva i fedeli perché i fedeli mica invocano Dio andate un po' vedere l'ordine nel quale vengono non so quale non c'è neanche Gesù Cristo al primo posto tanto per intenderci non c'è neanche Gesù non so quale santa Gesù Cristo è al settimo posto perché si preferisce invocare i santi perché uno li sente più vicino e poi ci mettiamo a ridere ci mettiamo a ridere dei romani che avevano le statuine dei lari e dei penati ma le statuine di padre Pio che teniamo sul comodino che differenziano rispetto ai lari e ai penati dei romani nessuna nessuna è tutto uguale è tutto uguale il cristianesimo romano è un politeismo fatto di un Dio e di tanti semidei e quando lo studieranno tra duemila anni e troveranno le croci in ferro legno plastica e tutto quel che volete troveranno un sacco di statuette descriveranno il cristianesimo romano esattamente come noi adesso descriviamo le cosiddette religioni dell'antichità esattamente nello stesso modo ma se anche a Lourdes se anche se la chiesa fosse veramente coerente con ciò che dice e facesse esaminare i miracoli di Lourdes alla luce delle cose circa il 35% dei cosiddetti miracoli di Lourdes non sarebbe più considerato miracolo perché si spiega benissimo tipo le remissioni spontanee dalla TBC eccetera è che la chiesa dichiara miracolo una cosa una volta e rimane miracolo per sempre però anche lì io dichiaro miracoloso una cosa perché non so come la natura ha agito ma la mia domanda è so come ha agito padre Pio no allora perché dico non so come la natura ha agito dunque non è stata la natura dovrei dire non so come ha agito padre Pio quindi invece no invece no padre Pio va bene la natura no bisognerebbe riflettere un attimino su questa roba qui è quella lì dei 6 milioni quella di quella di oggi di circoxalieno ah no 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 ah sì quella del cinquantenario che oggi cosa dà che succede ah il contatto il contatto il contatto con gli alieni oggi ma l'avete avuto eh qui c'è scritto Elohim quindi voi avete realizzato la profezia posso fare 28 29 30 e 31 quello di lì ciao grazie buonasera troverò piacere nel fatti del mare ciao Mauro ci vediamo a Milano ciao ciao ci vediamo a Milano sì ciao e ora si 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 no ma perché ah ma dici i tre capitoli 28 29 3 ah sì sì no pensavo 28 con i versetti ah sì sì no no per carità sì 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 certamente certamente no no scusa stavo cercando dei versetti specifici non ho capito scusa no finisco soltanto una cosa tra l'altro ecco questo che citava l'amico eh si rifà per esempio tutta una serie di cose presenti nei salmi dove i salmi che ci vengono presentati come preghiere dolcissime in realtà sono degli inni al comandante militare dove si inneggia la forza la potenza del comandante militare anche dove è violentissimo non so pensate dove ti dice Babilonia beati quelli che prenderanno i tuoi bimbi e li sbatteranno contro i muri ma pensate che beatitudine infinita che c'è pensate che beatitudine infinita capite quindi dunque mi hanno fatto segno che siccome bisogna assolutamente preparare la sala per le 80 90 persone che mangiano qui dobbiamo spostarci e prendere l'aperitivo dall'altra parte grazie va bene mi è piaciuto grazie no grazie mi è piaciuto ho avuto un'unica considerazione da fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti